Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema, sono Giulio e volevo fare una piccola recensione di un film documentario evento che esce settimana prossima dal 3 al 5 di luglio e parlo di Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, concerto è più giusto dire, concerto documentario che ritorna al cinema a distanza di 50 anni per l'esattezza da quell'evento, nel senso che il film che poi uscì nel 79 racconta o mostra l'incredibile concerto del 73 che David Bowie fece all'Amersmith Odeon di Londra e per celebrare i 50 anni quindi giusto dire 50 anni dal concerto e i 44 dall'uscita del film torna al cinema anche perché il concerto cade perfettamente perché era del 3 luglio del 73 e questo nuovo vecchio concerto viene proposto, ho avuto il piacere di vedere in una versione rimasterizzata, ripulita sia da un punto di vista audio che da un punto di vista video l'esperienza è per quelli che amano David Bowie, per quelli che amano la musica, per chi vuole e non ha mai visto uno spettacolo di David Bowie, è una cosa incredibile, è un viaggio nel tempo, in un altro modo di fare concerti un altro modo di fare spettacolo, un altro modo di fare musica che però è rimasto nella storia e avendolo visto devo dire che è un'emozione grandissima, proprio è un concerto potentissimo vediamo proprio da vicino quello che sarà poi il duca bianco la sua performance che è ammagliante, è incredibile ed è quasi una sorta di alieno con questo fisico asciuttissimo, magrissimo e lo vediamo proprio vicinissimo nel senso che il concerto documentario mostra tutto il concerto che sono più o meno 1 ora e 40 abbastanza serrata e qualche minuto di backstage prima come preparazione c'è ovviamente David Bowie seduto che si fa truccare e c'è un momento bellissimo in cui arriva sua mamma, proprio un momento di vita quotidiana che non ti aspetti almeno io non me l'aspettavo, non l'avevo mai visto quindi ero ignaro di quello che ci fosse e anche durante la performance ogni tanto David Bowie fa una pausa quindi torna nel camerino, si cambia, assistiamo alla vestizione per l'ultima volta del suo mitico personaggio Ziggy Stardust e quindi è un'esperienza da fare e da gustare su un grande schermo con un bel impianto al fresco visto che fa caldo o meglio oggi non fa tanto caldo però settimana prossima torna il caldo e quindi è una cosa che consiglio ovviamente è un tipo di film documentario che può prendere il pubblico, i miei coetanei o anche più grandi ma secondo me magari un giovane potrebbe appassionare a conoscere questa icona leggendaria autore di un disco incredibile di un personaggio veramente che sembra quasi un alieno appartenente a un altro mondo quindi è proprio una bella esperienza che ho fatto e che consiglio anche da un punto di vista di regia è abbastanza canonico ma la telecamera non è lontana anzi è molto vicina ci sono inquadrature strettissime anche sugli occhi di Bowie sulla faccia di Bowie sulle sue espressioni sulla sua mimica insomma è un personaggio che manca devo dire la verità guardandolo ho avuto questa sensazione chiaro erano altri tempi erano gli anni 70 era decisamente un mondo molto più libero molto più colorato e molto più bello quindi rivedere per questi 105 minuti una parentesi una parentesi della storia della musica una parentesi dei concerti di un tempo una parentesi di un artista incredibile secondo me è un bel modo di passare due ore della propria vita poi le performance musicali non sono io a dirlo perché ammetto tranquillamente di musica non è che sia espertissimo però insomma David Bowie è uno di quegli artisti che credo chiunque l'abbiano ascoltato l'abbiano visto sappiano chi è è anche un'icona di stile uno che ha fatto modo uno che ha fatto tutto che ha sempre vissuto da star il suo essere artista musicista cantante quindi bello bello come concerto vederselo in sala bello come momento l'album cosa bisogna dire dell'album di stardust capolavoro quindi ascolterete su ascolterete vedrete su grande schermo un capolavoro della della musica questo è in breve quello che appunto volevo dire in merito a ziggy stardust and the spiders from from mars in uscita dal 3 al 5 di luglio per questa recensione è tutto ciao a tutti alla prossima